L'arbitro sta per dare il via alle ostilità, con me a raccontare il match di oggi, c'è Stefano Nava. È tutto pronto, Pierre. Speriamo che sia una gran bella partita. Il match che sta per cominciare è fra Coventry City e Crowley Town. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. 4-5-1 per loro e c'è la conclusione. Pronti via ed è già arrivato il primo gol del match. Grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria. Un approccio che sembra aver funzionato. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Ha spazio per andare. La mette bassa. Nessun problema per il portiere. Arbitro che fischia il ball. Occhio, cerca l'area di rigore. Prova a far partire il tiro. E il pallone finisce in gol. Una sentenza nell'area piccola. Ha trovato la porta con grande precisione. Con un gol formidabile. E solo un grande giocatore con un'ottima tecnica. Grande abilità di tiro come la sua. Poteva permettersi questa giocata. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Si avvicina all'area. Cross in mezzo. Non è finita. Attenzione. Grande recupero. Contrasto eccezionale. Credo che possano davvero essere soddisfatti della loro stagione. Assolutamente. Sono lì tra i primi e possono sperare nella vittoria finale. Punta l'area. Contrasto riuscito. Palla che rotola via. C'è il triangolo. Attenzione. Potrebbe anche arrivare un cartellino. Non è un gran che è qui la girata di testa. Volerà essere buoni. L'impressione è che l'abbia impattata con la parte alta della testa. Non con la fronte. Ne è uscita fuori. Una conclusione inguardabile. C'è spazio per andare. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Punta la porta. Prova la botta. Ha cercato, forse in maniera anche un po' egoista di segnare il suo terzo gol, ma qui ha sbagliato tutto. Tipico di chi gioca in attacco. L'egoismo. Premia la corsa sulla fascia. Ottimo recupero sulla fascia. Baragna a metri. A metri. Occhio all'intervento del direttore di gara. In acrobazia. Para senza nessun problema qui il portiere. Occhio al suo movimento. Pallone molto pericoloso. E c'è la conclusione. Non si fa sattento. Deviazione. Calcio all'angolo. Oscar. Ci sono metri a disposizione. Rimessa con le mani. Decisiva la deviazione. Fuori. Sarà fallo laterale. Oscar. Baragna a metri verso l'area. Può metterla in mezzo. Difesa sotto pressione. Ma se la cava bene. Occhio. Cerca l'area di rigore. Occhio che guadagna metri. Attenzione. Pericolo. È un'occasione sprecata. È un vero peccato. Prova a calciare. Conclusione da dimenticare. Questa scarsa coordinazione. Postura del corpo disorganizzata. È normale che ne uscisse fuori un tiro del genere. Quarto uomo esibisce la lavagna. Tre minuti di recupero. Si avvicina all'area. Va con il possesso palla. Murato dal difensore. E possono ripartire. Arbitro che dice che può bastare. Comincia ora il secondo tempo. C'è spazio per andare. Può cercare il cross. Crossa verso il centro. Apre di testa. I compagni si fanno vedere. Occhio in mezzo. Può cercare il cross. Non è anche il cross. La difesa a vita facile. Occhio al traversone. Rete. Splendi da rete. Bravo e fortunato qui a trovare il gol. Pochi minuti dopo il suo ingresso. L'allenatore starà gongolando. Per aver indovinato il cambio. Fortunato. Più che mai in partita. Che carattere. Che squadra. Conteggio cambiato. Ora siamo sul risultato di 2-1. La ragna metri. Oscar. Manovra interrotta dagli avversari. Un altro ottimo tocco. Punta l'area. Ecco il tiro. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore. Si ripartirà con un calcio d'angolo. L'allenatore non vuole cale intenzione. Allora ecco questo cambio per conservare il vantaggio. Palla vagante adesso. Oscar. Buono il dai e vai. Occhio al suo movimento. E il pallone se ne va via. Oscar. 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 Buono l'1-2. Mancano 20 minuti alla fine. Prova ad andare. Allontana il difensore su questo tiro. Palla in fallo laterale. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Cambia di fronte l'attacco con questo arancio che taglia tutto il campo. Palla girata sulla corsia. Arbitro ha visto qualcosa che non va. e adoperà il calcio di polizia. Occhio. 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 Intervento in scivolata ma che prende nettamente le gambe dell'avversario e non il pallone. Troppo irruente, sbagliato il tempo della scivolata, finendo per falciare il proprio avversario. Colpo di testa che sembrava già dentro, intervento di puro istinto del portiere. Parata dal coefficiente di difficoltà altissimo, mamma mia! Oskar, si avvicina all'area, bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Siamo entrati negli ultimi dieci minuti. Aumenta ancora l'intensità della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Lo stadio è una vera bolgia, il pubblico si sta dimostrando il dodicesimo uomo in campo. Buono il contrasto. Buono l'appoggio. E ci sarà un calcio di pulizione, manca poco. Coraggioso il petarivo dell'attaccante, pallone che termina largamente sul fondo. L'ha già provato, non era facile coltire al volo e indirizzarla verso la porta da apprezzare. Comunque il coraggio e il gesto tecnico. Oskar. Occhio, cerca l'area di rigore. Viene chiuso. E con questa palla intercettando la traiettoria del passaggio. Se getta in avanti alla disperata ricerca del pareggio. Oskar. Bravissimo il portiere sul tiro dell'attaccante. È finita. L'arbitro manda tutti. Grazie.